Nessuno merita l'odi per le sue buone azioni se non hai il coraggio di essere cattivo. Come possiamo essere sicuri che Rocher non gli abbia parlato della manovra? Lei è l'unico che può disturbare i loro piani. Evidentemente lei non si rende conto di cosa c'è in gioco qui. Penso che lei sia in pericolo, padre. Vorrei che lei mi confessasse.